Il presidente dell'Ebolitana, Fiorentino Repuccia, lancia un accorato appello ai tifosi e agli imprenditori per centrare la salvezza. È un momento di difficoltà, esordisce Repuccia, come tanti altri avuti in questi cinque anni in cui mi sono dedicato alla causa dell'Ebolitana, dalla prima categoria al calcio che conta, ossia la Serie D. I nostri tifosi ci sono sempre stati vicini e sappiamo i loro sforzi, adesso però è il momento di far sentire ancora di più l'affetto e la passione a questa squadra, che è già da domenica contro il Messina e poi il Roccella, si deve fare assolutamente punti. Sono convinto che solo uniti, società ed imprenditori che ci sono vicini e soprattutto l'amministrazione, possiamo superare questa fase in cui ci gira tutto storto. Si deve conquistare la salvezza e dobbiamo fare punti a tutti i costi, tutti insieme, tutti uniti.